Camilla, duchessa di Cornovaglia, un giorno sarà la moglie di un re e le sarà concesso un onore a cui il principe Filippo non avrebbe mai potuto beneficiare nonostante fosse il marito della regina, all'inizio di quest'anno, la regina ha celebrato la vigilia del suo giorno di adesione annunciando inaspettatamente il suo desiderio che Camilla, duchessa di Cornovaglia, fosse in futuro la regina consorte. Ci sono state molte famose regine consorte nel corso della storia reale britannica. Inclusa la regina Elisabetta, la regina madre. Ma non esiste un precedente stabilito nella monarchia britannica per un re consorte, il che significava che il principe Filippo non era mai stato un re durante la sua vita, dopo anni di speculazioni sul titolo di principessa consorte pianificato da Camilla, la regina ha finalmente posto fine alle voci confermando il titolo di regina consorte per Camilla una volta per tutte. La regina ha detto prima dell'inizio del suo anno del Giubileo di Platino. La regina ha detto prima dell'inizio del suo anno del suo anno di